Tocco, regalo il pallone a Nengolan, ma è in percussione di Nengolan, dentro per Cervigno, in aria, Cervigno, Neto, Nengolan, Rete, Nengolan, prova in vantaggio. Prima gola in campionato per Nengolan, il decimo in Serie A. Tutto nasce da una percussione proprio di Nengolan, Cervigno, Neto fa quello che può e poi, come hai giustamente sottolineato, tecnicamente fa un bel gesto, Nengolan, lì si rischia anche la brutta figura, lì calcia in modo perfetto. Il bravo Cervigno nel controllo a seguire, che è una delle sue caratteristiche migliori, si prepara subito la palla per calciare, poi riesce a dare forza alla conclusione di sinistro. Neto respinge bene, Nengolan l'abbiamo detto. C'è Nengolan, può attaccare alla Roma, palla in verticale, Cervigno, Cervigno, la mette al partiere, Cervigno, porta vuota, Cervigno, Rete, con lo strepitoso, che muove dall'Olimpico, Cervigno fa impazzire, la curva su dalla Roma vince 2-0 contro un'altra Fiorentina. Ma di Pjanic e poi di Nengolan sono veramente fantastici. Semplicemente il gol di Cervigno perché si infila, tra Gonzalo Rodriguez e Neto mantiene l'equilibrio, segna il gol del 2-0. Il decimo gol in essere per Cervigno, niente male per uno che veniva accusato di non segnare mai. Finisce la partita, la Roma batte una Fiorentina ottima nel secondo tempo per il 2-0, con i gol nel primo tempo di Nengolan e nel secondo tempo di Cervigno. Super spot e poi torniamo in diretta dall'Olimpico.